Io voglio parlare da quest'aula e a quest'aula di Tempa Rossa, un gigantesco giacimento pretolifero che è stato realizzato in Basilicata, in particolare a Corleto, Perticare, in provincia di Potenza. Il Sole 24 Ore lo titola così, là sotto a Tempa Rossa c'è l'ira di Dio, di petrolio e di metano. E io aggiungo, c'è anche una montagna decapitata, una torcia alta 130 metri, 840 milioni di barili stimati a ribasso, 15 mila barili al giorno da un solo pozzo di petrolio che è già pronto per essere avviato e altri 60 mila barili al giorno da parte di tutti gli altri pozzi di petrolio. A questo aggiungo ancora i rischi per la salute e per l'ambiente. E questo è Tempa Rossa. E nonostante ciò, il 31 di ottobre del 2010, 200 persone, chiedo scusa, ma estranze, quasi tutti i lucani, hanno perso il posto di lavoro. E al 31 dicembre del 2018, altri 600 persone circa perderanno il posto di lavoro. Perché Total, o chi per lei, ha detto che non è necessario che chi realizza la pizzeria faccia anche il pizzaiolo. E quindi queste persone, ragazzi che hanno cullato il sogno di rimanere in Basilicata, padri di famiglia che hanno cullato il sogno di dare un futuro ai propri figli, si vedranno costretti, se non cambia registro Total, a perdere un posto di lavoro. Nonostante Total abbia assunto l'impegno formale di formare queste maestranze e quindi di avviarle non solo alla costruzione del giacimento petrolifero, ma anche alla gestione del giacimento petrolifero. Con questo che voglio dire concludendo, Presidente e colleghi, che questa è una battaglia sociale che bisogna combattere con i lavoratori, tre lavoratori, ma non nell'indifferenza delle istituzioni. Per un semplice principio, se i rischi sono a carico dei Lucani, le opportunità devono essere a favore dei Lucani. Grazie.